ciao a tutti sono pietro foresti e sono un produttore musicale siamo su rocker tv a lezione con io vorrei sfatare un mito quello che per me è un falso mito ed è una cosa che molti artisti giovani che conosco e che vogliono raggiungere il successo raggiungere dei risultati mi dicono spesso mi dicono noi dobbiamo trovare qualcuno che creda in noi ecco io gli dico chiaramente che non funziona così anzi è proprio l'opposto siete voi che dovete avere una grande grandissima fiducia in voi stessi e convincere gli altri che siete sufficientemente forti e sufficientemente bravi per cui siano gli altri a seguirvi in questa fede e questo mi è avvenuto con tutti gli artisti importanti con cui ho lavorato erano estremamente convinti di loro stessi e dei loro mezzi quindi vi dico ancora una volta dovete essere voi a credere in voi stessi individuate le persone che secondo voi vi possono aiutare nel vostro cammino fate partire la macchina e andate e vedrete che lungo il percorso ci saranno tante persone che si uniranno al viaggio sono pietro su rocker tv a lezione con top